A Miraglio Tallarico, una giornata molto importante per la Marina, ma in particolar modo per i ragazzi che hanno ricevuto i gradi da Sergente. Un discorso di suo molto oculato, molto preciso, che è stato apprezzato. Certo, è una giornata fondamentale per i ragazzi che praticamente sono diventati sotto ufficiali. Come ho detto, potranno sempre continuare a scalare la piramide, perché ormai si può crescere in Marina. Abbiamo iniziato questo percorso da anni e nulla proibisce che loro poi facciano altri concorsi per diventare maresciali o per diventare ufficiali. Il mio discorso puntuale nasce da statistiche recenti che risalgono a circa un anno fa e che tengo sempre a puntualizzare. È un messaggio che la Marina serve e mi pare di averlo dimostrato. Grazie. Anche per la Marina, la Marina ha avuto sempre un particolare riferimento, quindi continueremo così. Affermativo. La Marina rimane a Maddalena. Non ha nessun intendimento, nessuna intenzione di andare via dalla Maddalena. Perché è una zona estremamente formativa per i ragazzi, soprattutto per l'arte marinaresca, che è il core business ovviamente della Marina. Grazie a Miraglio di questa assicurazione. Grazie a voi e speriamo di rivederci presto qui in questo posto bellissimo. Grazie. Comandante Cabrini dalle scuole suddiviciali della Maddalena. Dicevo, una giornata molto importante per le scuole, ma soprattutto per i ragazzi che appunto hanno ricevuto il grado di sergente. Sì, senz'altro il compito di un istituto di formazione è quello di migliorare il personale che viene all'interno dello stesso. Quindi noi abbiamo ricevuto qui dei ragazzi che arrivano a diventare sergenti, hanno seguito un percorso complesso, difficile, che li ha tenuti qui per oltre sei mesi e adesso colgono i frutti del loro impegno che senz'altro li porterà a continuare con sempre maggiori responsabilità all'interno dell'organizzazione della Marina Militare Italiana. Ecco, naturalmente ci sono diverse categorie che appunto studiano qui, quindi qual è la più importante? Sì, allora noi ci occupiamo soprattutto di nocchieri di porto, nocchieri, motoristi navali e abbiamo avuto anche qualche incursore. Questo è il primo corso sergenti che ha avuto anche delle donne. Quante donne eventualmente, se si può sapere? Erano tre. Ma in tutto l'istituto? In tutto l'istituto abbiamo 22 allieve, poi nel quadro permanente abbiamo anche un certo numero di donne, ecco. Ci sono anche allieve, direi quindi donne ufficiali? Sì, sì, abbiamo personalmente, ora mi fa parlare di una cosa personale, io ho mia figlia che è in quarta classe in Accademia Navale e qui quindi è un ufficiale, una guardia marina quarta classe delle Capitanerie di Porto. Insomma la Marina Forgia, via. La Marina Forgia è una dimostrazione di come io ritengo che la Marina Forgia sia un'organizzazione sana e il fatto che mia figlia stia facendo il mio stesso mestiere. Grazie comandante e buon proseguimento. La ringrazio a lei e un saluto a tutti quanti.